ciao amici di youtube benvenuti ad una puntata speciale del cielo della settimana oggi la giacca rossa delle grandi occasioni per due motivi il primo perché da oggi inizia la nostra programmazione estiva e ci vedremo il venerdì sera parlando dell'oroscopo della settimana successiva il secondo perché oggi abbiamo una puntata ricchissima e parliamo di un tema che ci terrà compagnia fino al 29 luglio e quindi per sei settimane l'ingresso di marte in leone e i suoi effetti segno per segno prima di entrare nel vivo però le solite raccomandazioni mi raccomando iscrivetevi a questo canale che diventerà sempre più grande e bello e attivate la campanella per non perdere le ultime uscite poi questi sono solo alcuni temi dell'oroscopo della settimana potete leggerlo per intero al link qui sopra allora se siamo pronti partiamo allora oggi giacca rossa delle grandi occasioni perché perché luna nuova in gemelli segno della comunicazione la luna nuova è sempre l'inizio di qualcosa di nuovo e oggi partiamo con la nostra programmazione estiva con il nostro giovedì sera insieme ma soprattutto lanciamo anche il nuovo sito per cui tra poco lanceremo l'oroscopo e lo leggerete dal nuovo sito che ancora ha bisogno di aggiustamenti che ancora in una fase beta ma insomma potete già assaporare il così il mood di un nuovo pianeta e piano piano diventerà sempre più grande per cui grande emozione ma soprattutto un cielo che questa settimana cambia in maniera importante perché marte dopo quasi due mesi in cancro si sposta in leone marte è un pianeta veloce ma se vogliamo il più lento dei pianeti veloci quindi i suoi cambiamenti sono i più significativi sono i più radicali tra tutti i pianeti veloci e dalla seconda metà di aprile sta in cancro adesso lascia il cancro ed entra in leone innanzitutto diciamo chi è marte perché da qui possiamo capire anche un po l'effetto di questo cambio della guardia per tutti e 12 segni zodiacali marte nel pantheon olimpico è il dio della guerra ma in realtà è molto più di quello perché è il pianeta dell'azione marte descrive il modo in cui agiamo il modo in cui facciamo le cose e da questo punto di vista nel tema di nascita è forse uno dei collaboratori più stretti del sole perché il segno in cui abbiamo il sole il nostro segno solare racconta un po la progettualità la programmazione i progetti che ci mettiamo diciamo che ci proponiamo di realizzare ma marte esprime il modo in cui concretamente lo facciamo e anche nel cielo di transito quando marte cambia posizione la tonalità dell'azione dell'agire del fare le cose cambia un po assume delle sfumature nuove ed in particolare lasciando il cancro terminano due mesi in cui siamo stati tutti un po più sulla difensiva in cui siamo stati tutti un po più in un atteggiamento protettivo e autoprotettivo perché il cancro è un segno che ha proprio a che fare con la protezione adesso marte entra in leone leone segno di fuoco quindi più passionale più energico più grintoso ma soprattutto il segno governato dal sole è il segno del protagonismo è il segno della capacità di metterci la faccia è il segno della capacità di rimboccarsi le maniche ed intervenire attivamente nelle cose che non ci stanno bene anziché subirle perché ancora prima è il segno e ognuno di noi ne ha almeno un frammento nel proprio tema di nascita che dice come in quella famosa pubblicità perché io valgo perché certe cose non le accetto perché certe situazioni le cambio e quindi marte in leone da un tono più grintoso più energico più protagonista più estroverso a moltissime situazioni che stiamo vivendo e questo vale un po per tutti e 12 segni dello zodiaco da qua fin per due mesi circa sicuramente per tutti e 12 segni chi lo vive come una spinta di poppa chi lo vive come una sfida ma comunque saremo chiamati tutti quanti a metterci di più la faccia ad affrontare in prima persona certe situazioni senza delegarle senza lasciarcele scivolare addosso quindi comunque e questo io ci tengo a sottolinearlo perché quando un pianeta cambia segno cambia un po il tono in cui si esprime la funzione associata a quel pianeta e questo riguarda tutti e 12 i segni al di là di chi lo becca a favore e di chi lo becca tra mille virgolette contro comunque sia tutti quanti per due mesi saremo chiamati a rapportarci con un'energia di marte che ha a che fare con l'agire concreto con il fare proprio che entra in un segno non solo di fuoco ma anche in un segno più orgoglioso più fiero che ci mette la faccia e che dice ci penso io e questo cambia un po tutto lo scenario allora adesso facciamo una breve carrellata e raccontiamo questo nuovo marte come agisce in quali aree agisce per ciascun segno dello zodiaco cominciando dall'ariete che è il segno governato da marte per cui per gli scorsi due mesi ha avuto un marte in quadratura quindi in un aspetto dissonante che l'ha rallentato che gli ha messo la museruola che l'ha fatto sentire con le mani legate che in certi casi non gli ha dato la possibilità di parlare apertamente di imporsi come voleva e adesso accoglie un marte a favore quindi per l'ariete al di là di tutto il resto del cielo che comunque descriviamo nell'oroscopo abbiamo un pianeta così importante per l'ariete che molla un'ostilità e che entra a favore quindi è veramente come togliere il freno a mano e permettere all'ariete di esprimersi di più di accelerare ma anche di togliersi un sassolino dalla scarpa anche di affrontare apertamente certe questioni anche di imporsi di più sul lavoro di mettersi più in primo piano perché tutto sommato parliamo del leone che è il segno del protagonismo e parliamo di un marte che torna finalmente a favore per il toro parliamo di un marte in quadratura nella quarta casa che è la casa che racconta proprio la casa la famiglia le radici e ci rimanda indietro l'immagine di un toro che si rimbocca le maniche e comincia a lottare per difendere i propri spazi comincia a lottare per ritagliarsi il proprio ruolo per tenere più lontane le persone che cercano in qualche modo di condizionarlo di influenzarlo parliamo di un toro che ha nel complesso giove finalmente a favore dopo una prima parte dell'anno con giove in posizione dissonante e al quale questo marte in buone in molti casi dà la spinta giusta per scuotersi e per scrollarsi di dosso tutta una serie di pesantezze e partire per cui penso al toro che vuole cambiare lavoro penso al toro che vuole cambiare città penso al toro che si trova davanti a un bivio questo marte è un po una spintarella di poppò un calcetto nelle terga che ti spinge a dire ok prendo parto vado per cui sicuramente è un toro che si scatena con questo marte che un po lo innervosisce perché marte in quadratura lo fa ma allo stesso tempo gli dà la spinta giusta gli dà quella scarica che serve per rimettere dritte una serie di posizioni e soprattutto per allontanare una serie di persone che cercano di invadere i suoi spazi per i gemelli è un marte in terza casa la terza casa è la casa della comunicazione marte in terza casa da ai gemelli la forza la capacità la grinta per aprire bocca e dire le cose dritto per dritto in maniera chiara per rimandare la palla al mittenti in una trattativa per dire no ad una proposta per dire io valgo e quindi mi aspetto che quello che faccio venga riconosciuto mi aspetto che gli altri facciano per me qualcosa che sta allo stesso livello di quello che io faccio per loro e tutto questo si inserisce in un momento in cui c'è giove in quadratura dalla decima casa che è una posizione importante per la carriera per cui potrebbe portare alcuni gemelli non solo ad aprire bocca e a insistere di più in certe richieste ma anche a dare un out out se certe situazioni non si sbloccano perché è un marte che ti spinge a dire le cose dritto per dritto senza girarci intorno e soprattutto a non intimidirsi a non lasciarsi intimidire dagli altri a non sentirsi da meno ma aprire bocca e parlare e qualcosa del genere vale anche per il cancro per il quale è un marte che sta nella seconda casa che è proprio la casa dei soldi per cui il cancro in questo periodo fa un po lo yo yo tra due diversi stati d'animo tra uno stato d'animo più dimesso più scoraggiato con la sindrome un po del bruttanatroccolo dell'incompreso e un ma è un cancro che invece si fa sentire e invece chiede quello che gli spetta questo marte che entra in seconda casa sposta un po l'asse sul cancro più spavaldo sul cancro che se si sente poco riconosciuto dal punto di vista economico apre bocca e chiede chiede di aggiustare certi contratti chiede ancor prima di essere messo in regola se non ha un contratto solido che definisce il suo lavoro e chiede qualcosa di più per cui è sicuramente anche per il cancro una posizione di marte molto favorevole che per certi versi poi rappresenta la fase 2 di alcune iniziative che sono sorte negli scorsi due mesi dove adesso il cancro dice ok le abbiamo pensate le abbiamo immaginate le abbiamo definite adesso mettiamole a terra parliamo nel concreto quanto costano quanto tempo ci vuole come si possono fare per cui è sicuramente un cancro che si fa più concreto arriviamo al leone leone è il segno che riceve marte in casa per cui sicuramente arriva un'iniezione di grinta di vitalità di energia di capacità di imporsi di capacità di battere il pugno sul tavolo e chiedere certe situazioni che riguardano soprattutto l'immagine personale marte nel segno lavora sul leone proprio a fargli tirare fuori la grinta e a fargli richiedere maggiore attenzione maggiore protagonismo e maggiore centralità sul lavoro e questo è un tema fondamentale per il leone nel 2021 perché il leone è entrato in quest'anno con giove e saturno in quadratura e quindi in un clima di lotte continue ma è entrato in quest'anno che gli ha risvegliato la grinta gli ha risvegliato il desiderio di lottare gli ha riarricciato la criniera dopo anni in cui il leone era più dimesso in cui il leone guardava le sbarre che lo ingabbiavano e non trovava modo per poterle allargare per cui questo riattiva innanzitutto l'energia mette il leone sotto un riflettore di maggiore protagonismo e per molti rappresenta proprio la spinta a cambiare pelle a cambiare immagine voglio essere visto per qualcosa di diverso da quello per cui sono sempre stato visto questo un'immagine che mi porto presso da anni comincia a starmi stretta comincia ad ingabbiarmi non vi scordate che il film che ho dedicato al leone per quest'anno è ralph spacca tutto ed è un cartone animato che parla di un protagonista che si è stufato di essere relegato in un certo ruolo in un certo ruolo che è marginale in un certo ruolo che è poco centrale ed un certo ruolo che è limitante questo è uno dei grandi temi del 2021 evadere da un ruolo marte che arriva nel segno marte che arriva in prima casa da quella spinta necessaria al leone per dire e mo basta questo ruolo per me non va più bene siete abituati a vedermi così da sempre mi avete proiettato addosso questa gabbia io adesso trovo la forza di spezzarla di fare cose diverse di propormi in una veste differente ed è molto molto importante tutto questo arriviamo alla vergine la vergine a marte nella dodicesima casa la dodicesima casa è l'ultima prima che un nuovo giro inizi per cui è una casa particolare anche un po difficile da descrivere è una casa di attese è una casa di preparazione è una casa per certi versi anche un po di confusione e questo si aggiunge comunque ad un cielo che vede il sole e mercurio che è il governatore della vergine in quadratura dai gemelli e quindi un cielo sicuramente di fatica un cielo sicuramente in cui la vergine è ha raggiunto la riserva come in macchina quando la benzina scende al di sotto cioè la vergine sta camminando un po sulla fatica fa fatica a recuperare energie marte in dodicesima casa da un lato è un invito a ritirarsi un po a recuperare energie a rilassarsi a chiudere fuori certe situazioni però allo stesso tempo crea un po di confusione quando penso a marte in dodicesima casa come in questo momento alla vergine mi viene sempre in mente il guardare la vita attraverso un vetro appannato dove di quando in quando diventa più difficile capire come stanno le cose diventa più difficile in particolar modo capire quali sono le situazioni che vanno avanti bene e quali sono le situazioni che stanno su un binario morto quali sono le persone alle quali affidarsi e quali sono invece delle persone farlocche delle situazioni che non portano da nessuna parte in questo momento la vergine sta come non so se avete presente quella giostra che si chiama i calci in culo dove i seggiolini girano a velocità vertiginosa e diventa anche difficile capire esattamente dove stai andando allora tutto questo comunque prelude ad un mese di luglio in cui la vergine la leveremo la tireremo fuori da questa sala d'attesa la tireremo fuori da questo limbo e per certi versi marte in dodicesima casa nella sua forma migliore fa proprio pensare ad un periodo di preparazione per cui per molte vergine questo potrebbe essere un momento in cui ci si chiude per fare la cosiddetta chiusa per un esame per una laurea per preparare un progetto per stare un pochino meno nel casino per chiudere fuori dalla porta il rumore di fondo insomma la vergine ha bisogno di stare un po di più tra sé e se ha bisogno di stare un po più isolata soprattutto perché in questo momento tutti quelli che le stanno attorno un socio un collaboratore il suo ambiente di lavoro un fidanzato asfissiante la vedono come un appendi abiti sul quale lanciare continuamente problemi sul quale lanciare continuamente situazioni complicate per cui è una vergine che deve avere anche la forza di dire sai che c'è io vi saluto e mi isolo un po sai che c'è io cambio numero chi mi ama mi seguirà ma insomma molti possono restare anche fuori allora andiamo avanti con la bilancia bilancia un discorso simile a quello della riete la bilancia si libera di due mesi di quadratura di marte due mesi che la bilancia ha sentito sicuramente sulla sua pelle e due mesi che chi ha una bilancia accanto non può non aver notato perché la bilancia negli ultimi due mesi è stata letteralmente radiattiva nervosa spesso sotto stress spesso diciamo molto affaticata nello stare dietro a tutto sicuramente ha saputo imporsi in una serie di situazioni sicuramente la bilancia è in un momento di grande forza ma ha prevalso il nervosismo da adesso in poi per due mesi la bilancia ha marte in decima casa quindi molla la quadratura molla un aspetto faticoso e torna a favore ma soprattutto le permette da un lato di essere meno nervosa di sentirsi sempre meno sulle forze di sentirsi sempre meno con il collo tirato e dall'altra di paradossalmente comandare in tutta una serie di situazioni che riguardano i grandi gruppi cioè la bilancia in questo periodo è un vero e proprio leader è una vera e propria leader ma in questo da qui in poi per i prossimi due mesi non lo farà più innervosendosi strillando stressandosi facendosi venire delle botte d'ansia che la metà basta e inquinando anche il cielo di chi è accanto ma semplicemente rimboccandosi le maniche e guidando la fila perché come si dice chi ha l'idea più chiare chi ha più energia si metta in primo posto e guidi e in questo momento la bilancia riesce a farlo senza grande senza grande nervosismo per cui grande cambiamento in positivo per la bilancia al quale seguirà poi da fine giugno anche il secondo cambiamento cioè anche venere che è il governatore della bilancia lascerà la quadratura ed entrerà a favore e lì in qualche modo questa doppietta mollerà un aspetto difficile ed entrerà a favore per lo scorpione vale il discorso che abbiamo fatto da poco sulla bilancia cioè abbiamo un marte in quadratura quindi un aspetto di sfida dalla decima casa che è la casa della carriera il concetto è proprio arriva una scossa per lo scorpione di rimboccarsi le maniche e di cominciare a lottare perché una sua posizione lavorativa venga riconosciuta marte in decima casa può significare lottare di più può significare essere più agguerriti avere il coltello tra i denti di guardarsi di più le spalle essere un po più diffidenti ma contemporaneamente proprio come ha fatto la bilancia negli ultimi due mesi perché ha faticato molto ma ha anche ottenuto molto per lo scorpione inizia un periodo sicuramente un po faticoso sul fronte del lavoro soprattutto per chi deve ad esempio parliamo di decima casa quindi la casa dell'immagine pubblica della carriera per chi deve sostenere un esame per chi si deve laureare per chi deve affrontare una piccola battaglia sul suo ruolo per chi deve rimandare al mittente un'accusa per chi deve affrontare una rivalità ma sicuramente un lungo periodo che permette allo scorpione di emergere di più oppure di cambiare completamente strada perché la decima casa è quella dell'immagine professionale con marte in decima casa e con giove che ha lasciato la quadratura per lo scorpione se qualcuno vuole cambiare azienda ruolo città referenti collaboratori questo è il momento giusto per prendere e aggiustare il tiro marte rimane in questa posizione fino al 29 di luglio per cui più di un mese e mezzo sei settimane in questa posizione qua che potrebbero veramente consegnare all'estate uno scorpione con un'immagine professionale completamente ricostruita andiamo al sagittario il sagittario è il grande viaggiatore dello zodiaco il sagittario negli ultimi mesi ma in molti casi negli ultimi anni di viaggi se ne è potuti concedere pochi è come se fosse stato azzoppato e rallentato nel suo movimento nella sua capacità di spaziare di darsi delle nuove situazioni da questo momento con la luna nuova in opposizione dai gemelli e con marte che torna in una casa il sagittario torna a muoversi smette di andare al trotto che è un moto è un moto diciamo irregimentato è un moto lento moto controllato moto bloccato e comincia a galoppare che significa torno in movimento torno a muovermi a darmi delle nuove occasioni a viaggiare di più torno ad allargare la cerchia delle conoscenze torno ad impormi per guadagnarmi il mio movimento e questa è una cosa che adesso non voglio dettagliare più di così ma ci sono almeno 4 5 sagittari che conosco e che tengo d'occhio per i quali questa frase ha una potenza dirompente sagittario arriva alla luna nuova in opposizione che un po come dire sto davanti ad uno specchio e capisco esattamente cosa sono disposto ad accettare cosa non sono disposto ad accettare cosa voglio e cosa non voglio e tutto questo accade con marte che entra nella casa dei viaggi e del movimento e il concetto è non sono più disposto a stare bloccato con la palla al piede a chilometro zero a situazioni che non dipendono da me ho bisogno di tornare a muovermi ho bisogno di tornare a fare il sagittario che è la dimensione che mi compete arriviamo al capricorno per il quale per il quale innanzitutto marte lascia un'opposizione durata quasi due mesi ed entra in posizione diciamo così neutrale per i prossimi per le prossime sei settimane ma soprattutto marte che lascia l'opposizione è un po come un capricorno che dice negli scorsi due mesi ho dovuto chiudere un occhio di fronte a certe situazioni ho dovuto fare buon viso a cattivo gioco in certi casi ho dovuto fare anche il finto tonto ci sono stati dei comportamenti che non mi sono piaciuti ma di fronte ai quali non ho potuto poi ribellarmi o reagire liberamente adesso lo faccio adesso mi levo il sassolino dalla scarpa adesso ti rimando pan per focaccia oppure un capricorno che dice io da qui all'inizio della primavera fin qui sono stato alla mia parte dei patti adesso mi aspetto che tu faccia lo stesso e non sono disposto a tollerare nessuna deviazione io ho fatto il mio adesso tu fai il tuo quindi è un capricorno molto più forte molto più deciso molto più determinato e soprattutto agguerrito nel farsi rispettare oppure nel chiudere una situazione l'ottava casa dove adesso transita marte per il capricorno è la casa delle grandi trasformazioni oppure della condivisione più profonda il che significa che o certe situazioni le sblocchiamo trovando una una sinergia più forte trovando una condivisione più forte più sentita più profonda oppure sono pronto a tagliare e a mettere un punto sempre per il capricorno visto che l'ottava casa è anche la casa delle risorse condivise marte in ottava può aiutare da qui alla fine di luglio a sbloccare una questione che riguarda un mutuo che riguarda un prestito che riguarda un finanziamento che riguarda un rapporto con la burocrazia per cui anche se qua andiamo sul concreto da qui alla fine di luglio se c'è qualcuno che è in attesa di una autorizzazione di un permesso di una licenza che non arriva di un finanziamento può davvero smuovere le acque anche parliamo di un marte in leone anche facendosi sentire anche insistendo anche cercando delle collaborazioni che possono dare una mano perché un marte in leone è sempre attivo è sempre determinato è sempre intraprendente arriviamo all'acquario è il mio allora marte in opposizione marte in opposizione significa per certi versi doversi un po inquadrare significa per certi versi dover lottare per definire meglio certi rapporti o comunque mettersi in riga per portare avanti un impegno lavorativo un impegno di vita che coinvolge anche delle altre persone per cui con marte in opposizione c'è la possibilità di tirare una spallata per definire meglio un rapporto per firmare un contratto per chiudere una certa situazione che finora è stata un po vaga ma allo stesso tempo c'è anche la l'obbligo se vogliamo è un marte in opposizione che limita un po la libertà personale ma in vista di un progetto che vale la pena e che quindi richiede maggiore impegno maggiore attenzione maggiore diligenza e maggiore partecipazione per quanto mi riguarda è l'inizio serio della scrittura del libro ma qualunque sia la situazione con marte in opposizione c'è la possibilità di dover limitare parzialmente la propria libertà individuale in vista di un progetto più importante che merita anche diciamo un impegno maggiore allora andiamo all'ultimo segno che è il segno dei pesci che da questo momento a marte in sesta casa la sesta casa è la casa dell'ordine nella casa dell'organizzazione per cui marte in sesta casa per i pesci può significare rimboccarsi le maniche cercare di riaggiustare certe routine cercare di lottare per un orario diverso per una diversa divisione dei turni sul lavoro per una diversa organizzazione delle cose può significare anche in casa cercare di stabilizzare certe situazioni imponendosi penso ai pesci che in questo momento vivono una fase di caos di confusione sul lavoro di confusione in casa che fanno la spola tra due città che stanno facendo i pendolari che non si capisce ancora che piega prenderanno alcune situazioni di lavoro marte in sesta casa è rimboccarsi le maniche ed insistere per avere delle risposte chiare ma ancor prima marte in sesta casa è imporsi con se stessi e prima ancora prima ancora che con gli altri per creare uno stile di vita più equilibrato più armonico meno caotico per cui questo potrebbe portare qualcuno ad esempio ad iniziare una dieta potrebbe portare qualcuno ad adottare un regime alimentare più equilibrato a dormire di più a darsi delle regole a darsi dei ritmi più vivibili insomma pesci che cercano marte di imporsi su se stessi e sull'ambiente circostante per creare una vita più vivibile per riordinare ed è paradossale questo per i pesci che passano per essere il segno del caos creativo in questo momento prevale il desiderio di mettere dei punti fermi di mettere dei paletti di mettere dei confini e di farli rispettare allora io direi grosso modo questa era la carrellata delle nuove posizioni di marte che lo ripeto valgono da adesso fino al 29 di luglio quindi stiamo parlando di una specie di oroscopo speciale che uscirà poi anche per iscritto e che riguarda non solo la settimana prossima da cui questo marte comincerà ad ingranare ma riguarderà le prossime sei settimane perché verrà fino al 29 luglio del 2021 io vi ringrazio per essere stati insieme in questo nostro primo venerdì sera ne seguiranno molti altri prima di lasciarvi le solite raccomandazioni attivate la campanella e iscrivetevi al canale noi ci vediamo la settimana prossima e buon marte in leone a tutti grazie